Mercato in uscita più che in entrata, la Virtus Franca Villa non ha priorità immediata in sede dei trattative se non portare alla corte di Taurino un vice pierno sulla fascia destra, per il resto la rosa è già forte e completa così, ma è chiaro che il duo Magrian-Torazzo interverrà nel caso in cui si presentasse qualche uscita clamorosa, al momento non sembra essere un'ipotesi, molto dipenderà anche dall'evoluzione che avrà la manifestazione di interesse della Juve Stabia per prezioso, sia chiaro la Virtus non regala nessuno, nel cartellino del centrocampista Campano e il suo valore, da Cassella a Mare dovrà arrivare un'offerta irrinunciabile, saluta Puntoriere, che nonostante l'interesse del Cerignola si accaserà nel girone A di Serie D, pronto a partire in prestito, invece Nicolas Magnavita per il quale in corso un duello tra Vigor, Lamezia e Bisceglie, nelle prossime 24-48 ore dovrebbe arrivare la scelta del giovane prodotto del settore giovanile bianca-azzurro, le uscite prima delle entrate, per una Virtus che sul mercato non ha fretta, intanto proseguono gli allenamenti individuali dei bianca-azzurri senza i cinque calciatori attualmente positivi, oltre a un membro dello staff, sabato la bella notizia è arrivata proprio dall'esito dei tamponi che hanno visto negativizzarsi otto elementi del gruppo squadra.